Ciao ragazzi, oggi vi parlerò di un intervento che ho eseguito su questo Omega Speedmaster Broad Arrow ha fatto un brutto volo da circa un metro e mezzo d'altezza su delle scale la lunetta si è piegata, non si riusciva più a inserire e oltretutto si è staccata la sfera dei secondi insomma, delle cose che capitano a orologi quando fanno voli del genere guardate anche un po' lo stato, non è dei migliori e riprenderò anche poi quello che è la configurazione estetica per riportare l'orologio non solo in efficienza ma anche in conformità poi estetica nel frattempo vi sto mostrando anche la parte posteriore, laterale per verificare come è fatto l'orologio un orologio molto simile dal punto di vista del suo calibro il Frederic Piguet 12,85 33,03 per Omega rispetto a quello del Rolex 41,30 e vi mostro subito un paragone questo è un confronto diretto fra i due calibri ma noi adesso ci concentreremo maggiormente sull'orologio ed ecco, l'orologio è finito abbiamo dato anche una piccola lucidatina giusto per renderlo un po' presentabile, meglio di prima dunque questo calibro il 33,03 fa da base poi al 33,06 e anche se non sbaglio al 33,13 che poi adotta il rattrappante adesso il calibro è revisionato, sta andando, sta andando piano perché siamo al minimo della carica come vedete andando a muovere la corona per la carica si nota il bilanciera andare molto più ma ci sono delle cose che ecco si vedono su questi calibri guardate qui, queste onde di Ginevra sono rovinate perché la roteatura è stata portata via anche in questo punto come potete vedere è un segno di interferenza poi sul fondello che vi mostro qua eccolo ecco andando a vedere bene segno di interferenza del fondello ovviamente questo perché il cuscinetto è un po' sottodimensionato rispetto alla massa oscillante la massa oscillante è molto pesante lo vedete si muove con nulla è un orologio questo che ha un calibro è un calibro unidirezionale e questa è tutta la parte dell'automatico però il problema è che si tratta di un eccolo qua calettamento della massa oscillante quasi sul ponte quindi potete vedere che c'è anche un rischio di interferenza in questo punto qui questo enorme questo continuo gioco durante tutti i cicli di rotazione voi immaginate quante volte al giorno, alla settimana e quindi all'anno questa massa oscillante ruota quindi la rivoluzione di questa ruota adesso su due piedi non saprei ovviamente quantificarla però questo potrebbe andare a ledere in maniera ovviamente rilevante poi anche il cuscinetto che potrebbe addirittura cedere per cambiare il cuscinetto ovviamente bisogna cambiare tutto il ponte in questo caso vedete non ci sono giochi sulla parte inferiore come spesso accade su Rolex soltanto sulla parte superiore ovviamente prima della revisione non c'erano delle tracce di corpi estranei all'interno tali da far come dire da cambiare da sostituire il cuscinetto sarebbe necessario ovviamente poi per scelte individuali fin tanto che si può magari portare avanti l'orologio in questa condizione si può rimontare anche questa ovviamente ragazzi in Omega il tutto sarebbe stato sostituito radicalmente massa oscillante perché si potrebbe generare un allargamento del foro che ovviamente ricordiamo è qui essere in ottone il gioco dell'organo e ovviamente sostituzione che vi ho detto come vi ho detto del ponte e questo è l'orologio quindi abbiamo il distanziale abbiamo poi il o-ring e andiamo poi a montare il famoso fondello con su scritto broad arrow ed eccolo ragazzi l'orologio adesso è pronto ai box vedete anche presentazione finale come ecco appare nella sua configurazione poi di satinatura anche delle parti dell'abbigliaggio del bracciale come state vedendo e adesso quindi siamo pronti per andare a fare magari un giro vi ricordo che è un orologio del 2001 non abbiamo sostituito le sfere ecco le sfere purtroppo a causa di precedenti interventi sono stati un po' sono state un po' ecco un po' troppo toccate dal mio punto di vista le sfere andrebbero sempre quasi intonse anche se ricordate una cosa quando fate la revisione o fate fare comunque la revisione del vostro orologio e le sfere rimangono originali diciamo che c'è la coevità la coevità dell'orologio quindi come molte altre volte è toccato qua state vedendo anche un dettaglio della cassetta della satinatura ovviamente ricordo che questo orologio ha fatto più volte satinature quindi diciamo che per essere un orologio che ha tutti questi anni mantiene ancora quello che è la giusta profondità di incisione per le sue diciture ma adesso detto questo andiamo a vedere come si comporta siamo qui non abbiamo il pieno della carica però a noi basta osservare un pochettino quello che è il parametro di precisione l'orologio questo qui è un orologio COSC come vedete sta salendo man mano anche l'amplitudine vi ricordo che poi il massimo delle performance arriva dopo qualche giorno dalla revisione quando si ha l'assistamento della trasmissione in termini di di lubrificazione ecco e quindi andiamo a vedere già che il dato è ottimo dal punto di vista anche dell'amplitudine partendo da un più tre vediamo un po' qual è l'escursione adesso dell'orologio vedete guardate abbiamo solo una piccola divergenza in termini di biterror ma manteniamo quella che è l'amplitudine e anche il parametro di precisione ecco l'amplitudine inizia ad avere qualche perdita però ovviamente fisiologica per tutte le ragioni che vi spiego ogni volta quando facciamo questo genere di prove eccoci di rientro allora adesso parliamo un attimino di soldi perché 1500 euro è il preventivo omega per rimettere in efficienza questo orologio io ho fatto una revisione poi se volete vedere anche i miei servizi andate su watchfun.it lì potrete vedere tutte le attività che svolgo per me per voi ovviamente ho effettuato una revisione ho risatinato l'orologio come potete vedere non ho sostituito all'interno cose particolari in omega sicuramente avrebbero sostituito alcuni componenti io vedo alcune volte che portando per un service vengono rimossi canotto vengono rimosse le sfere vengono rimosse alcune cose probabilmente avrebbero magari non so io non era incluso nel preventivo alla sostituzione della lunetta però insomma il prezzo parlava chiaro qui 1500 euro si sono risparmiati sul serio veramente magari non 1500 però ragazzi una buona una buona parte di esse quindi questo è anche il titolo del video di questo orologio che ripeto è un orologio della stessa generazione del Rolex 4130 quindi parliamo di 116 520 in questo caso perché è coetaneo di quegli anni questo è un 2001 nasce nel 2000 il Daytona Daytona con secondi indiretti qui i secondi cronografici ecco uno dei problemi di giovinezza di questo orologio era l'azzeramento che non era sempre nello stesso punto qui invece lo vediamo e lo facciamo anche scorrere un attimino perché qui la ruota crono secondi è direttamente calettata e diretta sull'innesto verticale mentre sul Daytona no l'innesto verticale è una ruota a parte poi indirettamente ovviamente raggiunge poi i secondi crono anche i secondi sono calettati poi direttamente e difatti lo avete visto prima nella foto la ruota che era un po' più tangente che era calettata poi sulla ruota di innesto verticale quella era la ruota dei secondi tradizionali e andiamo a stoppare in questo momento e come vedete si ferma sempre sullo stesso micron quindi questo orologio diciamo che ha superato questo heater di service in maniera brillante voi lo avete visto bene ragazzi noi ci vediamo al prossimo video questo era un video estemporaneo mi è venuto in mente di farlo solo dopo alcuni passaggi che ovviamente non avete visto avete visto un confronto del suo calibro 3303 con quello del Daytona 4130 molto simile ma non uguale e niente a voi adesso i commenti mi raccomando iscrivetevi ancora a WatchFun condividete questo video se vi è piaciuto e noi ci vediamo presto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti